7 aprile 1944, a Terracina avviene l'eccidio di San Silviano. Antonia Martucci, Arturo Leccesi, Domenico Marzullo, Onorato Trani, sono le persone inermi uccise dai soldati tedeschi occupanti. Tutta l'Italia in quel periodo attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, segnato da moltissime stragi nazifasciste. Più di 24.000 sono le vittime. Fosser Deatine, Sant'Anna di Stazema, Marzabotto, San Silviano, Borgo Montenero, per citarne solo alcune. Dopo più di 70 anni, Lampi invita tutti e tutte a rinnovare la memoria di ciò che è accaduto. È importante non dimenticare e valorizzare ogni giorno di più la scelta antifascista che caratterizza la nostra Repubblica.